E' sufficiente la sublime Ancona dell'Altare Maggiore, capolavoro del gotico al tramonto, a giustificare una visita anche fugace in San Francesco. Per cinque anni, dal 1388 fino al 1393, i fratelli Pierpaolo e Jacobello dalle Masegne hanno lavorato fianco a fianco per affidare al marmo il racconto della vita del santo di Assisi, in un tripudio di basso rilievi, statue, pinnacoli e trafori lievi come ricami. Il virginale candore della pala dialoga a perfezione con l'essenziale interno a tre navate della chiesa, che dopo la ricostruzione postbellica appare quasi spoglio. Lungo le pareti si addossa una serie di monumenti sepolcrali, tra cui quello quattrocentesco di Papa Alessandro V. La chiesa, costruita per volontà dei monaci francescani, risulta ultimata nel 1263, anche se è soltanto alla fine del Trecento che viene elevato il campanile maggiore, opera del più richiesto architetto del momento a Bologna, Antonio di Vincenzo. Se la sezione absidale, con deambulatorio a cappelle ragiali e archi rampanti, è un atto di adesione ai nuovi canoni gotici importati dalla Francia, la facciata capanna resta ancora legata ai moduli romanici. Da vedere, nell'attiguo convento, il trecentesco chiostro dei morti.